Henry Bergson Domanda Il filosofo Henry Bergson ha detto Esistere è cambiare Cambiare è maturare Maturare è continuare a creare se stessi senza fine Voi siete d'accordo? No Perché l'uomo non crea se stesso senza fine Ma fino a quando non si identifica in Dio Non crea se stessi senza fine Dio